salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo episodio della serie di subnautica ebbene sì siamo qui di nuovo in questo vasto oceano pieno di possibilità e mentre cominciamo già l'esplorazione bisogna assolutamente esplorare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mi raccomando fatelo è importante per me per voi per rimanere aggiornati ma ancora di più se volete rimanere davvero aggiornati attivate le notifiche le notifiche sulla campanellina attivandole tutte sarete sempre sempre aggiornati su ogni mio nuovo video il che è un'ottima cosa perché sapete quando vengono fuori video e potete andarli a vedere appena escono poi andiamo avanti lasciate un bel like che fa sempre piacere vedere che i video i video piacciono e mi supportano insomma mi spronano mi spingono un pochino a andare avanti con quello che faccio che lo faccio con compassione come hobby perché mi piace voglio farlo ve l'ho già spiegato più e più volte non sto qui a ripetermi di nuovo anche se l'ho appena fatto allora qui c'è qualcosa poi lasciate giù un commento mi raccomando anche i commenti sono una cosa buona sono un feedback che mi date voi per quello che ho realizzato se vi piace non vi piace vi interessa non vi interessa o consigli ecco ad esempio potete anche darmi dei consigli su sotto i vari video delle serie ad esempio qualcosa da da fare che dovrei provare cercare ad esempio adesso stiamo giocando a subnautica potreste consigliarmi una zona nella quale recarmi ad esempio ora sto esplorando un po a caso potreste dirmi voi e guarda quella risorsa si trova lì e i commenti servono anche per quello e poi mi pare di aver visto un certo il sciolino questo l'avevo già fatto sì ok però non l'avevo presa 30 secondi forza forza torna su torna su torna su che non voglio morire proprio adesso mentre sto parlando sarebbe brutta ok tra l'altro si è fatta notte accidenti comunque si lasciate un like commentate condividetti iscrivetevi e date un'occhiata anche agli altri contenuti che trovate sul mio canale mi raccomando faccio non solo subnautica faccio molte altre serie oltre a subnautica c'è minecraft c'è genshin impact che porto quasi tutte le settimane ormai in realtà perché ci sono sempre un sacco di eventi un sacco di cose ecco questa è una pianta che ti fa male esatto se rimani fermo ti fa male ok intanto scansioniamola e con 30 secondi io direi che è ora di salire verso l'alto per non morire no stavo per dire assiderati ma assiderati non è per niente giusto per non morire affogati annegati eccoci qua perfetto e mo possiamo tornare giù papapapapapa ok non mi ricordo se la luce si è accesa mi pareva di aver visto qualcosa qui in questa zona mentre salivo no era solo il costone roccioso non dovrei esplorare ok ok non dovrei esplorare a queste profondità adesso e al buio tra l'altro non è una buona cosa ma facciamo lo stesso il problema è che io non volevo tornare in questa zona Ma l'avevo già esplorata Ma non mi ricordavo più In compenso abbiamo Oh, frammento di Seamoth Eccolo qua Questo ci serve assolutamente Vediamo se è l'ultimo No, me ne manca ancora uno È fondamentale che troviamo i frammenti del Seamoth Per poter esplorare più in profondità E con maggior velocità Dai, 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 dai Ok E torniamo giù E per questo sono andato in esplorazione Manca un pezzo E spero di trovarlo effettivamente Che volendo potrei esplorare un pochino anche Senza Senza recari Quindi farlo a FK Però se la storia va avanti Oppure trovo cose molto interessanti Mi dispiacerebbe un pochino Non farlo Ah, dovrei fare un'autoscansione Va bene La farò Qui mi sa che va fin troppo in profondità E non vedo più niente Sono a 120 metri Quindi direi di salire Anche perché sto per di nuovo Finire l'ossigeno Ci sono quasi Ci sono quasi Tac Ok, ossigeno Guardate che lune pazzesche Torniamo giù Ma non fin giù Allora Questi sono i cosi giganti Quindi andiamo a dare un'occhiata da questa parte Ok, questi rumori non mi piacciono E' piuttosto inquietante la notte Sì Davvero molto inquietante Ehm Mamma mia Accogliamo questi No Rottami inventario pieno Beh, allora Torniamo a casa Prima di fare una brutta fine Tutti questi rumori Mi inquietano non poco Rottami non posso prenderlo Ma posso prendere questo? No Non posso prendere neanche l'apposito di sale Ah, guarda Un momento Torna su Torna su Torna su Torna su Su Ok Posso buttare via questo Che mi rompe un po' Le scatole Averlo E C'era del sale Il sale non sarebbe una cosa brutta da raccogliere Questo qui Direi che era proprio questo qui Ehm Quindi qui c'è dell'altro sale Sì Vediamo quanto riesco a portarmi a casa Perché Serve Sia per bere Che per mangiare Insomma Questa deve essere una zona Che Non ho granché esplorato A quanto pare Vediamo un po' Vediamo di quello Vediamo un'occhiata Eh no Niente Ho l'inventario stracolmo In questo momento Vediamo se Qui dentro c'è qualcosa Sì Fragmento di taglierina laser Se riesco a puntarlo Ok Eh lo so 30 secondi Ehm Bene Cambiamo Notiamo velocemente Verso l'alto Adesso torniamo alla base Vediamo un po' Cosa ho Eh Sbloccato Cosa ho raccolto E Eh Se possiamo Costruire Produrre qualcosa Potrei esplorare un pochino E in caso AFK Poi per la prossima volta E in caso Se trovo qualcosa di importante O La trama va avanti Con i messaggi Eccetera Ehm Notare quelle parti Dopo l'intro Insomma Così che possiate vedere Quello che ho fatto Magari ve lo dico e basta Poi vediamo Insomma Dipende anche da Che cosa succede Allora abbiamo recuperato Un po' di risorse Stiamo tornando Alla Alla base Insomma Alla cattula E Vediamo anche perché Vedo che ho fame E sete Per carità Ho due pesciolini dietro Però Non saranno sicuramente sufficienti E Forse non ho nemmeno dell'acqua No Siamo quasi Arrivati Eccoci qua Qua Dentro Al sicuro Allora Allora mettiamo via Questo Usiamo il fabbricatore Per farci Un po' di cibo Trattato In questo caso Facciamo questo Che è un nuovo pesce Ehm Poi Fai anche l'acqua L'acqua in realtà Aveva Bisogno Del cloro Il cloro Come si faceva il cloro E' un piove di tubo corallo Eh in effetti Potrei prenderlo E farlo Va bene Facciamo un altro cibo Qua E mangiamo qualcosa Molto bene Qui dice Che possiamo Realizzare La piattaforma mobile Per veicoli Molto bene Questa ci serviva Un sacco E adesso andiamo a vedere Un attimo Come farla Allora Mangiamo E mangiamo Ok Un po' d'acqua Ce l'abbiamo E Trasformiamo Questi Tac Anche perché Adesso dobbiamo fare I I cosi qua Di titanio Dove cavolo è Lingotto di titanio E ce ne servono Veramente un sacco Tac Andiamo avanti Con il crafting Ecco qua Lingotto di titanio Ce ne basta uno Ce ne servono di più Adesso vediamo Tac Lubrificante Cella di energia Cella di energia Due batterie Gomma siliconata Va bene Ok Credo che Guardando in giro Troverò Ciò che cerco Quindi Prendiamo questo E Ecco qua La gomma siliconata Ce l'abbiamo Le batterie Forse Anche O le ho usate Comunque Andrò avanti Con il crafting E la raccolta Dei materiali Almeno un pochino Abbiamo sbloccato Dei progetti Vediamo un po' Ok Il cibo L'abbiamo visto prima La piattaforma Essenziale La taglierina Siamo a 2 su 3 E il simof Siamo a 2 su 3 Devo trovare il terzo Poi Diario vocale Quello che ci è stato detto E la banca dati Che È sempre lì 28 Abbiamo raccolto un po' Di informazioni Anche lì Va bene ragazzi Vi ringrazio tantissimo Per la visione Commentate e condividete Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Noi ci vediamo In un prossimo video In un prossimo episodio Di Subnautica Ciao 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 Ciao